Steph? Eh, dimmi. È quello che penso? No. Come no? Fere, è Aerobrine. Non è che se li hai camuffati? Cosa hai camuffato? Io non capisco che sono dei Lucky Block, Steph, scusami. Fere, ma... Cosa ti ho detto l'ultima volta, ma non l'hai capito? Cioè, non mi hai ascoltato? Stai bene? No. È chiaramente la testa di Aerobrine, non sono dei Lucky Block, Fere. Steph, è chiaramente una Lucky Race. A chi vuoi prendere in giro, scusami? A te. Non la faccio? No, 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 Steph. Mi metto qui in un angolo, non mi giro mai più e non la faccio, Steph. Mi dispiace. Ma questi sono dei Lucky Block super mega sfigati con la faccia di Aerobrine che fanno capitare delle cose infernali, letteralmente. Perché non la vorresti fare? Non capisco. Io ti odio. Sì, lì c'è del cibo. Sì, no, mi sto prendendo le cose perché inizio senza di te. Puoi badare a te stessa, un po' di blocchettini. Ho già smesso, smesso, smesso di ascoltarti, Steph. Ok, vabbè, 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 parti, tranquilla. Non sono così terribili. Sei già caduto e sei già morto? No. Sono Spider-Man. Spider-Man. Bene, 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 via. Fere ha un gigante zombie in questo momento, però non posso farmelo vedere perché sto bruciando. E il problema è che non ho neanche armi perché parto con solo delle bistecche. Raga, di già, mi sono già rotto. Davvero? Sì, vabbè. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Fere? Che succede? Ho un problema. Di già, Steph? Sì. Cado nel vuoto. Ma sono caduta da sola. Anche tu? Come è possibile? Allora, sei proprio scivolata te. Sì, sono scivolata, quindi non cercare di darmi i meriti che non ho. No, io ritorno qua, Steph, quindi non lo so che problemi hai. Deve essere un mio problema. Ok. Ma vabbè, mi sono fatto un nuovo spawn point e spero che vada tutto per il meglio adesso. Ok, quindi, a me che ho abitato subito la lava. Fere è quel zombie gigante. E però non mi ha attaccato. È rimasto lì. Ho cercato di buttarlo giù, ma non mi ha dato particolarmente fastidio. Quindi direi che è una cosa ottima. Ok. Due su due terribili, raga, per ora. No, 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 no. Va bene, lavagnette. Ok, non ci piace la scuola. Ah no, sono anche dei quadri. Pensavo fossero altro. Va bene. Ok, ancora meglio. Fere è tutto bene, sì? No, sono appena esplosa e sono scivolata di nuovo. Ti ricordi che, dato che questa mappa l'abbiamo fatta tipo sei mesi fa con Gonx, ti ricordi che quando le cose esplodono rimangono esplode? Sì, no, certo. Per quello hai tutti quei blocchi utilizzati. È maledetta questa mappa, fa schifo, Steph. La TNT la paghi caro in questa mappa, eh. Sì. Ma proprio tanto, 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 tanto. Come se non bastasse, capito? Come se non bastassero gli unlucky block, perché in questo caso sono unlucky, Steph. No, ma perché dici così? Perché sono unlucky, l'hai detto te. Che ti sta succedendo? No, nulla. Ma io adesso non so più come risalire. Dittemi che c'è un check. Forse di così? I love it. C'è qualcosa che spara a fare per caso? No? Non lo so. Tutto a posto? Non lo so. Mi fa piacere. Io sto cercando di risalire su perché mi si è rotta tutta la strada. Quindi ho dovuto rifarla con dei blocchi. Sì, lo so. Ti prego non mi fai un altro zombie gigante. Questa volta ti faccio cascare. Vai via. Ma lascialo in pace, se non ti attacca. Eh, ma è ingombrante, Steph. Mamma mia. Cioè, qua devi anche parkurare un po' comunque. Ma non dico che è difficile come parkur... Questa si chiama fortuna, raga. Cioè... No! Nella fortuna io credo che mi ha buttato di sotto. Amico, devi star calmo. Amico? Amico? Che faccio? Che fai cosa, Steph? Sono più intelligente di te! No, fai anche il tuo! Che cosa? Non ti sto capendo. Mi hai mandato il Rosalime nella mia corsia! Che ti devo dire? E io che faccio? Non è colpa mia. Sono cercando di rifarmi la strada. Ok, sono sopra. Lì c'è un lucky block, raga. Devo per forza andare di lì. Scusate? Ok. Posso romperlo? Eh beh. E ci mancavano le witch. Eh sì. E mica bastavano due slime enormi. Finalmente, Steph. Che cosa? Una gara che ti va male. Sono molto felice. Così non capita solamente. Perché l'ultima mi è andata bene. Sì. Oh, ma che bel disastro. C'è lì sotto, Steph. Ah no, l'ultima non era una lucky race. Era una bad horse. Ti ricordo come cavolo mi è andata, cara mia. Quindi al momento mi dovrei lamentare io di essere qua. No, raga, basta però. Uno se n'è andato e si è buttato giù da solo. Sono molto felice. Però lo slime difere. Un altro slime! Perché? Ti giuro. Che ho fatto di male. Io ti giuro che se vada a me, io ti faccio guerra. Io lo spero, guarda, lo spero. Dai slime, togliti! Qui mi sono fatta la mia bella stradina per risalire sempre sopra. Dov'è il maledetto? Quindi non ho bisogno di parkourare sempre. Mi faccio le stradine. Che succede, Steph? È venuto da te anche quello? No, però mi basta il primo. Non riesco a sconfiggerlo. Non trovo modo. E poi è pieno di pipistrelli qua, ma rosoniche perché? Ma non lo so. Saranno apparsi... Oh, cavolo. Io le inizio a dire, questo video durerà un sacco. Mamma mia, se durerà un sacco questo video. Come faccio con quello slime? Oh, sì. Durerà proprio tanto. No, no, vai via, 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 esplodi. Ma proprio tanto. Esplodi sotto, invece si è esplodo qua. Noioso. Allora, devo soltanto spaccare questo. Ok. Ok. Non so neanche cosa è capitato, però... Buio, non vedo più nulla. È colpa mia? Aspetta. Posso fare... No, forse è mia, penso mia. Ok, fatto. C'è un bottone allo start per far tornare giorno. Quindi ricordati questa cosa. Eh no, il problema è che ho un sacco di effetti negativi. Quindi vado lentissima. Vabbè, quindi non frega nulla. Vado super zoomato. Non so dove devo andare. Allora, raga, potrei fare... Per fregare questo dannatissimo slime. Che continuo a far ricordare che non è neanche colpa mia. Quindi sto perdendo tempo. Senza neanche averne colpa. Io potrei fare una roba del genere. Ok. Fare così e andare qua. No, vai via. Come mi libero dallo slime? Non mi posso liberare dallo slime. Ma possono cadere? Sono troppo grandi per cadere. Sono troppo grandi per cadere. Quello è il problema, Steph. Sono troppo grandi per cadere. Quindi bisogna soltanto arrivare in un altro posto alto. Sì, esatto. Altrimenti siamo spacciati. Eh, non so come fare perché non mi fa passare, capito? Io cerco di rompere un lucky block alla volta così vado... Fere, ma... Eh. Hai trovato anche un altro? No. Si è duplicato? Io ne ho due qua. E tu ne hai uno. Ok. Ah, il mio che probabilmente è venuto da questa parte. Lo vedi, maledetto? Dai, cadi. Cioè, ma come... Come si può? Come faccio adesso? Va bene. Va bene. Ok, lo sto affrontando, Steph. Volete giocare a questo gioco? Ce la faccio! Volete giocare a questo gioco? Ho una spada di legio e ce la posso fare, Steph. Quanto ci vorrà, secondo te, per ucciderlo? Tanto o poco? Beata, a te che è una spada di legno. È l'unica cosa che ho trovato. Non è che ci posso fare molto. Cioè, qui va tutta sfortuna oggi. Beh, no, è fatta a posto. Dov'è? Muori! Perché non muori? Dai! No, 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 no. Che succede? L'ho ucciso, ma ovviamente ne sono spawnati altri quattro. Beh, sì, ma almeno sono più piccoli. Eh, l'ho capito. Però mi hanno buttato giù, perché sono di più. Però quelli tu li puoi buttare giù. Quelli grandi, no. Ah, basta. Ok, ho visto che uno è caduto da solo, per fortuna. L'ho visto cascare da qui lontano. È un'ottima cosa. Mi dovete lasciare in pace. Dovete schiatare, cadere di sotto e lasciami in pace. Se casca anche questo, se casca... No, dai, svetti da di farmi cadere. Che noiosi. Quanti di colpi li hai dato con una spada di legno? Tanti. Quasi rotta. Ho detto, controlliamo se magari trovo una... Quasi usata tutta. Che bello il lucky block di aerobrine. Molto. Sì, 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 sì. Sono simpatici tanto quanto lui. Guarda, almeno lo rispecchiano. Rispecchiano proprio sopra. No, beh, sì, sono fatti benissimo. Sì, sì, sì. State andando via? Oh, vabbè. Bravo. Sì, quella è la via giusta. Quella è la via giusta, amico mio. E scappo. È lì che tu dovevi andare. Fin da subito. Finalmente l'hai capito. E l'altro è da fare. Vai. Ok. Sembra che a fare lì stia distraendo. Posso approfittarne. Io faccio un lucky block e muoio. Un lucky block e muoio. Un lucky block e muoio. Non è possibile sta roba. Non è possibile. Ma almeno non sono esplosi l'oro, no vero? No, eh. È esplosato soltanto il posto dove dovevo camminare. Ovviamente. No, Fai è tornato l'altro. Ti ha invaso, Fai attenta. Lo sto picchiando con il vetro. Vai via! Perché non è ancora la spada? Ma è quasi rotta. Ah, beh, effettivamente è quella di legno. Sì! Il mio è caduto! Perché qua c'è tutto bucato grazie alla TNT. Lo sapevo che sarebbe stato utile. Io ho bucato tutto. Guardami. No, stai zitto. Che muoio è dalla mia parte. Non so come liberarmene. Mi ero appena liberata del mio. Io devo rompere questo lucky block, raga. È parte delle regole delle lucky race. Lo sapete benissimo. Quindi adesso prima scendo e poi trovo un modo. Allora, facciamo così. In modo tale che abbiamo una strada delimitata per arrivare fino a qua. Meno male che ci danno i blocchi, comunque. No, non so che fare. Sta andando avanti. Sta facendo la corsa al posto mio, Steph. Che faccio? Lo vedo. Mi sta affistando a me. Cioè che faccio? Lo vedi? Io te lo sto attirando un po'. Se viene qua lui cade. Aspetta. Aspetta. Io passo dall'alto. Tanto non ci sono lucky block che devo fare qui sotto. Esatto. Quindi mi sto facendo una strada. Io comunque te lo sto attirando. Però mi sa che non va. Però mi sa che è il lucky block che devo fare sotto il suo sedere, Steph. Quindi non è che ho guadagnato troppo. Ma che una roba è normale. Dai, casca. Ti prego. Vabbè. Non cade? No. Io lo sto continuando a cercare di attirare. Guarda anch'io. Io lo sto sopra. Ti sto dando l'itura a una mano perché mi sento generoso oggi. Perché è davvero un inferno questo posto. Però niente. Quando va così male è anche giusto. No, Steph. No! No! Ti odio! No, Steph. Dai. Cioè smettila di essere così. Che faccio adesso? Aspetta. Si stanno spingendo. Magari si fanno cascare. No. Allora. Cioè io sono in alto. Io ne ho affrontato tre. E questo è il primo che io trovo. Ed è il quarto. Quindi non ti puoi lamentare. Però che sfiga. Me l'ho appena sbarazzato, raga. No, perché ti sbalzano. Io sto continuando a superarli da sopra. E se non mi interessa. Ah, che sfiga, cavolo. Che sfiga. Ma secondo te si stanno attaccando o no? No, non si attaccano. Si spingono. Perché non c'è spazio per entrambi. Stanno sotto. Magari. 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 Io sto sopra. Stanno andando ancora sopra le loro teste. Sì, beh, anche io continuo a usare questa tattica. Però non è che io devo fare i lucky block. Non posso andare troppo lontano. Perché poi devo tornare indietro a farli. Non li posso lasciare indietro. Che faccio? Ci mancava lui. Ok. Dammi un po' di fortuna. Una sola volta. Chi mi ha buttato di sotto? C'è uno scheletro che vola su un cavallo. No, basta. Posso cambiare? No, io mi arrendo. Basta. È già finito, Fede. È finito. Basta. Basta. Per oggi è troppo, Stef. Ci sono giornate in cui le cose si possono sopportare e giornate in cui non le puoi sopportare. Mai. Non c'è mai la tua domanda. Questa è una di quelle giornate, Stef. Ma non c'è mai... No, sempre sopportato. Ma quando? Sempre. Tutti i giorni della mia vita, guarda. Ma quando mai? Maledetto. Sono caduti almeno. Gli ha fatti esplodere. Sì, sembra che abbiamo risolto. Oh, via libera. Cioè, però vedi come sei felice dopo l'infelicità. Ma sei zitto. Eh, beh, scusi. Maledetto. Questa è una cosa importante. Devo centrare adesso sto posto. Stefano, cadè... Come hai fatto, scusami? No, dai, perché sta roba? Se mi ci metto anche io, vero? Sta gara dura 70 anni, cavolo. Sì, ma c'è solo lucky block che... Ogni lucky block che apri o è un mostro che ti butta giù o ti fa scodere. E se sono quelli di Aerobrine c'è un motivo. Non c'è roba buona e non puoi proprio trovare neanche una spada per sbaglio decente. Tutto quello che fai va male. Punto. Allora, perché lo stiamo facendo? Non lo so. I costellini si divertono. E poi quando è il prossimo check point accidenti? Eh, questo non lo so. Qui di nuovo esploso tutto. Come potrei fare? Potrei scendere qua. Lo faccio. Poi farmi i blocchi. Cioè, lo vedi il mio lucky block? Quello sono speso in aria? Come lo dovrei fare? Eh, non lo so. No, lo vedi a fianco a te? Io ne ho già fatto uno così, eh. Ho fatto tutta una piattaforma. Eh, vado alla prossima e poi torno indietro. Ti prego, non esplodere. No, Steph. No! Se stai in silenzio, lui si calma. Sì. No, stai zitto. Guarda il mio schermo. Piccolo gatto. Allora, vado un attino qua. È tutto a posto. Ok. Siamo amici, va bene. Non mi sembra che tu la pensi con la testa. Ok. Ma perché mi ha fatto cadere? No. No! Che hai fatto? Perché mi ha fatto cadere? Non lo so. Ho fatto il lucky block e mi ha fatto cadere da solo. Ben? Ben? Mi capitano anche le cose strane. Allora, devo pensare di essere su Fortnite. Build battle. Non penso che funzioni, Steph. Penso che... Ha funzionato? Sì. Per ora sì. È fatto esplodere? No, mica lo sto facendo esplodere. Ok. Sto riuscendo, in qualche modo, a schipparlo. Ok. Ed è una roba epica. Mi godo la tua battaglia. No, perché ha buttato... Cosa c'entravo io? Perché ha buttato in terra me? Chi? Ero per arrivata. Non lo so. Un qualcosa mi ha spinto di sotto. Un'esplosione. Non lo so cosa è stato. Non ho fatto in tempo neanche ad accorgermene. Ci possiamo impostare lo spawn point un po' più avanti, Fer? Ma che c'entro? Sì, basta, cioè, basta. Ok. Allora, decidi dove metterlo così lo facciamo uguale. Guarda, dove sono io adesso? E non lo so dove sei. Nella parte alta, vedi? Questa? Esatto. Ok. No, perché non fa. Cioè, non si andrà mai avanti. Cioè, durerà 40 ore sta roba. Troppo bella fare sta cosa. No, è orribile. Peggio di quella che abbiamo fatto, dell'altra. E mo? Cioè, devo andare fin lì per recuperare questo? Io faccio a ritrosa. Facciamo questo sopra. E cado di sotto. Ah, qualunque cosa sei, non esplodere. Grazie. Così, torno qua sopra. E poi... Ma io non ho più mappa. Ma manco io. Ma no, ma non va bene, Fer? Allora. Se sei qualcosa che esplode... Ce la faccio più. Questa è stata schillosa. Zitto. Guarda. Zitto. Ho bloccato gli infil. Maledetto, guarda. No, vabbè, ma... Cioè... Poi ci sono sotto quelle ragnatele di lava che ogni volta mi fanno casca e sono odiose. Che ti succede? Niente. Ce l'ho fatta. Ha funzionato. Non ci voglio credere che ce l'ho fatta davvero a fare così. Allora, qui mi tocca andare al contrario. Ok. Può scendere qua. Fare questo. Vai via, vai via, vai via, vai via. Qualunque cosa tu sia. Cadi, 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 cadi. Ciao, addio, muori. Ok. Ah, io non ho più blocchi, però. Eh, abbiamo lo spawn point qua. Già. Non è stata una buona idea. No, infatti. Ci ho pensato adesso. Ma adesso è troppo tardi. Eh già. Ora è troppo tardi. Ora è troppo tardi. Ma non riesco a riprendere quello. Ora è troppo tardi. Perché non riesco a riprenderlo? Non mi fa scendere, Steph. Questo è lì. E mi tocca lasciarlo lì. Che faccio? Te l'ho rotto io. Ci sono dei blocchi invisibili. Quindi, ma dove siamo? Dove devo andare ora? Sopra? Sì. Che ci fai qua? Eh, non posso più agire. Ma non credo. Credo che dovresti salire in qualche modo normale. Senza usare blocchi. Secondo me è qua. Qua sopra, qua sopra. No, Steph, si è rotto tutto. Certo, c'erano i percorsi, eh. Questi percorsi con le scalette. C'erano, ma il problema è che si è rotto tutto. Che vuoi? No, 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 dai. Perché? Era appena salito. Perché? Perché? Allora, Fere, io voglio dire una cosa. Io mi fermo così. Cioè, se vuoi, tu continua la tua gara. No, no, non ne ho voglia. Cioè, io per la prima volta mi arrendo, basta. Mi arrendo, ufficialmente. No, è troppo. Cioè, sono un lucky in una maniera assurda. Cioè, tu fai un blocco e muori. Fai un blocco e muori. Non ne puoi più. È troppo. Allora, Consolini, se vi mettete troppi likes, noi ci sentiremo in dovere di completarla. Però... No, no, non la completo. Mai. Io non mi sento di continuare. Mi arrendo. Qua sotto altri videos, dove ormai moriamo sempre con Lucky Bloss. Non ti puoi giustificare cambiando lingua, Steph. Sì, perché così non sono più Steph, sono Stephitos. No, no, non funziona. E quindi non colpa mia. Non è Steph che non ha finito la gara. No, Pablo è italiano. No, Pablo. No, Pablo. No, no, Pablo. Pablo è un nome. E ci fermiamo così.